Musica Ben trovati a tutti, oggi una puntata speciale di Tra le righe incontro con l'autore e consigli di lettura perché il 10 agosto scorso è stato pubblicato per le edizioni Voce di Padre Pio il diario spirituale di Monsignor Fortunato Maria Farini in occasione dei 100 anni dalla sua ordinazione episcopale e noi vogliamo parlarne oggi con il vice postulatore della sua causa di beatificazione e canonizzazione Don Luigi Nardella che ritorna a trovarci nei nostri studi. Ben trovato Don Luigi, grazie. Grazie e saluto tutti i telespettatori Allora, un bel lavoro quello che lei ha portato a termine, appunto edizioni Voce di Padre Pio Allora, prima di scendere proprio nel cuore delle domande per conoscere il contenuto di questo diario, qualche accenno alla figura di Monsignor Farini Sì, Monsignor Farini è stato vescovo di Troia e poi di Foggia, è stato ordinato vescovo il 10 agosto 1919 e poi ha fatto il suo ingresso a Troia il 30 novembre e poi cinque anni dopo è stato anche nominato vescovo di Foggia. Alla fine lui a Troia ha rinunciato per ragione di salute nel 1951 rimanendo solo vescovo di Foggia E' morto a Foggia il 20 febbraio 1954, lasciando dietro di sé una grande fama di santità ed è per questo che si è aperta la causa di beatificazione che è cominciata parecchi anni fa nel 92 e si è conclusa qui nella fase di decisione nel 1908 e adesso pochi mesi fa è stata presentata la posizia Siamo in attesa della dichiarazione dell'erogicità delle virtù. Lui è nativo di Baronissi, provincia e diocesi di Salerno E' nato l'8 marzo 1881. Ecco questo è un po' come un succinto quadro della figura Ecco diciamo una carta d'identità di Monsignor Fortunato Mariano Un flash piccolo. Un altro flash che mi domandava su come è composto il libro Il libro, anzi questo diario abbraccia un periodo di tempo molto lungo dal 1897 aveva 16 anni al 1953 Occupa quindi moltissimi anni e sono nove quadernetti, quaderni di piccolo formato, un libretto dei ritiri spirituali e tanti fogli staccati che io ho cercato di inserire nei quaderni secondo la data che era assegnato su questi foglietti e quello che colpisce è che i primi quattro libri, quattro quaderni, sono solo del biennio 97-98 quindi gli anni 16-17 anni, gli anni in cui lui si è formato alla scuola dei padri gesuiti di Napoli e quindi ha assorbito tutta quella che è la spiritualità ignaziana e possiamo dire che questi quaderni sono una testimonianza di come i padri gesuiti di allora educavano i giovani e il giovane Fortunato Farina aveva assorbito molto tutto questo e dentro questo schema del metodo dei padri gesuiti c'è un contenuto straordinario di ricchezza di fede e di ricchezza di vita interiore perché se vogliamo passare al contenuto del diario dobbiamo dire che il tutto è cominciato in un'esperienza straordinaria che lui ha fatto all'età di 15 anni non ancora cominciava a scrivere il diario siamo nel maggio 1896 e lui 33 anni dopo nel 25esimo del suo sacerdozio e nel decimo di episcopato racconta queste esperienze straordinarie dice che adolescente la Madonna lo ha avvolto di una luce particolare per cui lo ha strappato dal baratro cui la natura sospince e lo ha immeso su un sentiero fiorito dove più tardi ha fatto risplendere un ideale di purezza a cui lui si è votato interamente e quindi un anno dopo 1897 ha fatto lui il voto di castità 16 anni e il 3 giugno 1897 e il primo giugno comincia il diario quindi un anno dopo comincia il diario di questa vita straordinaria e quindi possiamo dire che alla base del suo cammino spirituale c'è questa spiritualità mariana fortemente mariana quindi Maria la via per diventare santo in qualche modo e sì, lui lo diceva sempre perché io dico una spiritualità mariana è fortemente cristocentrica perché Maria conduce a Gesù e lui ripete continuamente nel diario che tutti i doni che ha ricevuto di grazia sono venuti attraverso la mediazione materna di Maria e lui dice che Maria, proprio alla scuola di San Luigi Grignon de Montfort Maria è la via facile per diventare santi e questo è un grande tema diciamo che ha vissuto intensamente in tutti gli anni della sua vita da 17 anni anche a 72 anni, 73 anni quando è morto lui sempre sentiva il bisogno di riorganizzare la sua vita perché la spiritualità inanziana dice che bisogna sempre ricominciare da capo non fermarsi mai e poi un'altra cosa bella per cui abbiamo questo tesoro di diario perché i padri gesuiti dicevano che bisognava scrivere gli appunti sui ritiri, sui proposti perché se non si scrivono si dimentica e quindi noi grazie a questa regola diciamo dei padri gesuiti noi abbiamo la ricchezza di questo diario e quindi possiamo dire che lui da giovane da sacerdote e da vesco è stato sempre fortemente innamorato di Gesù e di Maria sono stati loro il centro della sua vita e per cui ha vissuto intensamente l'unione con loro e questa unione intima con loro non è stato un fatto sentimentale così astratto era concreto nel senso che lui sentiva che bisognava seguire le orme di Gesù e di Maria e qui proprio nel testo della prima lettera a Giovanni si dice se uno dice di dimorare Cristo deve comportarsi come lui si è comportato io penso che si sia compiuto nella sua vita pienamente questa parola e il suo desiderio di farsi santo? il suo desiderio, tutto il diario è pieno di questa aspirazione a farsi santo lo dice continuamente nel dia dai 17 anni fino ai 60 e 70 continua a dire che deve sempre farsi santo deve sempre cominciare da capo e per lui farsi santo voleva dire stare intimamente uniti a Gesù Cristo e diventare conforme era sempre questa la sua grande passione essere unito intimamente a Gesù e diventare conforme a Lui e proprio alla luce di questo i punti, alcuni punti salienti perché io non penso di poter dire tutto sarà difficile sintetizzare oltre 500-600 pagine il diario dirò solo alcune cose che poi le altre cose invito i lettori a andare a vederle a scoprirle, a leggere il diario cioè le cose che io sottorino anzitutto è stato un uomo di preghiera la preghiera è stata la caratteristica della sua vita e tutte le situazioni difficili della sua vita lui le presentava dinanzi al Signore alla preghiera ha dato molto spazio di giorno e di notte ci sono molti testimoni che dicono che lui anche di notte pregava molti l'hanno sorpreso steso a terra nella cappella anche di notte per cui per lui la preghiera era il respiro della sua anima e senza preghiera e in questa preghiera il centro era la celebrazione eucaristica come celebrava questa eucaristia lui si preparava molto un quarto d'ora di preparazione un quarto d'ora di ringraziamento perché dice il mistero che ce l'abbiamo è troppo grande e poi lui amava dire io vado in udienza dal re a presentare i problemi della diocesi ed è molto bella questa cosa qui questo è un aspetto un secondo aspetto molto forte aveva un grande spirito di immolazione che significa aveva un grande spirito di immolazione e che accettava la sofferenza sia fisica perché le sue condizioni fisiche non sono state mai buone ottimali da giovane ha avuto una forma di tubercolosi che si è guarito miracolosamente e che ha lasciato le sue tracce e quindi la sua salute non è stata mai ma poi tutte le difficoltà della vita i contrasti della vita perché non è possibile che un vesco non passi per la tribolazione e per le croci era una verità di allora come una verità di oggi per cui possiamo dire che ogni vesco è sempre un po' crocifisso e lui ha vissuto questi aspetti crocifigenti della vita con un grande spirito di fede proprio vivendo pienamente questa dimensione della fede e ha avuto la grazia di amare le croci un po' come il padre Pio amare le croci perché Gesù ha amato le croci Gesù è passato per la croce e lui che voleva essere un altro Gesù uno simile a Gesù viveva questa realtà straordinaria e poi il giorno del suddiaconato allora c'era il suddiaconato adesso non c'è più il 1903 19 settembre 1903 scrive nel diario dice io mi offro vittima di tutte le sofferenze che avrò per le mani di Maria per la salvezza delle anime e per la santificazione dei sacerdoti per lui un tema molto forte è la santificazione dei sacerdoti possiamo dire che lui nella sua scelta pastorale ha una cura particolare per le vocazioni sacerdotali e anche per i sacerdoti perché lui diceva che una volta santificato un sacerdote si santifica tutto un popolo per cui lui ha lavorato molto molto su questo quindi abbiamo questa questa dimensione per cui lui arriva a dire che il giorno della sua ordinazione episcopale dice io devo imitare era stato ordinato vescovo nella chiesa di San Carlo e Catinare devo a Roma devo imitare San Carlo e nella preghiera e nella penitenza dice la preghiera e la penitenza sono i due mezzi che io devo usare per la santificazione del clero e per la salvezza delle anime per cui lui aveva una grande fecondità apostolica perché quando parlava era trasparente di Dio e quindi tutti quelli che lo avvicinavano avvertivano questa presenza di Dio nella sua vita e lui tutte le cose le viveva in Dio e quindi leggendo il diario si scopre che questo questo suo fascino spirituale proveniva dalla sua preghiera dalla sua dalla sua intimità col Signore ottimo poi si prego continui e ci sono tante altre cose io vorrei dire una parola sulla carità e sull'umiltà dico prima sull'umiltà perché l'umiltà dice lui è il fondamento della vita cristiana e della santità senza umiltà non si dà manco la carità la carità certamente è la virtù più grande però l'umiltà è il fondamento quindi è importante e lui ha delle pagine sull'umiltà dai pensi dai 16 a 17 dice concretamente quando sarò posposto a qualcuno io non mi urterò ma ringrazierò il Signore di questo pregherò per quello che mi ha posposto e quello a cui sono posposto e poi dice perché questo il suo desiderio di essere santo diceva sempre io voglio essere un santo un gran santo però occulto sconosciuto ignorato da tutti questa era una nascondimento e questa rientra anche nella spiritualità ignaziana ma ritornando all'umiltà ci sono anche altre pagine altri brani molto forti per esempio dice di accettare l'umiliazione lui cita Santa Teresa d'Aulia quando dice uno dei propositi che fa io non parlerò mai di me né di bene né di male farò conto come se non esistesse e poi dice cita Santa Teresa d'Aulia diceva Santa Teresa Davida si rideva di coloro che dicevano al Signore fammi umile dice non bisogna dire così bisogna dire Signore dammi umiliazioni perché dammi umiliazioni perché attraverso le umiliazioni si diventa umili se no l'umiltà diventa una parola astratta teorica invece l'umiltà è quando uno accetta le umiliazioni e non si ribella umiltà è mansuetudine è quello che dice Gesù imbarate da me che sono umite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime e quindi questo è un pilastro ma lei pensi che dai 16-17 anni fa tutti questi propositi e li conserva li ripete fino all'età adulta di vesco fino a proprio anche gli anni 40-50 ci sono diciamo questi proposti sull'umiltà una parola voglio dire anche sulla carità è stato un uomo di grande carità verso i poveri verso i sofferenzi soprattutto verso i sacerdoti perché lui vedeva in tutti l'immagine di Cristo e per cui quello che dice il Vangelo tutto quello che fate uno dei miei fratelli più piccoli lo fate a me cita anche queste parole cita anche queste parole del Vangelo ma dove lui ha diciamo mostrato una carità eroica è stato durante i bombardamenti a Foggia nel 1943 lui insieme con alcuni sacerdoti religiosi si è rimboccato le maniche per non solo per aiutare i feriti far seppellire i morti ma anche per organizzare tutto il servizio di carità per gli sfollati per tutta la gente maurita e lui è stato veramente un grande apostolo un grande un eroe della carità e anche verso i sacerdoti ha avuto un amore particolare si interessava di tutti i problemi dei sacerdoti e aveva anche come dire anche quando i sacerdoti gli hanno procurato sofferenze perché nell'ultima della sua vita ci sono stati contrasti all'interno del presbiterio che l'hanno fatto molto soffrire ma lui dinanzi a tutti questi eventi ha sempre uno spirito di amore di misericordia anche verso chi lo ha fatto soffrire dice c'è un passo del diario del 50 dice io ringrazio il Signore dell'aiuto che mi ha dato per tutte le tribolazioni dell'anno 49 dice quelle provenienti dalla mia salute malferma quelli provenienti dagli uomini e quelli provenienti anche da alcuni sacerdoti addirittura che io avevo tanto amate e voglio continuare ad amare cioè è una cosa troppo grande io rimango io sono rimasto abbagliato da questa da questa figura che è sicuramente quello che ci ha raccontato Don Luigi è una minima parte della ricchezza di questo diario è solo un assaggio io dico è solo un assaggio perché il diario tolta questa coltre questo involucro dei proposi sempre ripetuti che ma forse noi oggi non siamo portati a fare questo però dentro questo involucro dico c'è questo contenuto che è evangelico e che è veramente una cosa molto grande questo proprio cioè io proprio dico sempre che un uomo che ha vissuto un vesco che ha vissuto così intensamente immerso in Dio nelle cose di Dio non poteva non esercitare un fascino su tutti quelli che lo avvicinavano questo le sue parole in alcuni passaggi in alcuni termini mi hanno fatto pensare anche ad una sorta di parallelismo tra Monsignor Fortunato Maria Farina e Padre Pio hanno avuto modo lui ha avuto modo di avvicinarsi al Santo Pietrelcina si sono conosciuti la prima cosa è che i Santi si incontrano sempre è bellissimo questo si incontrano sempre io ogni volta che leggo le cose dei Santi di qualunque epoca ci sono delle cose è lo spirito che con Padre Pio Monsignor Farina ha avuto ha avuto molto rapporto il primo è che Monsignor Farina era stato nominato Vescovo di Foggia nel dicembre 24 e quindi aveva preso possesso dopo un po' nel 26 marzo 26 e dalla posizio di Padre Pio io ho letto questa notizia che il 1928 una donna qui di San Giovanni Rotonto aveva accusato presso il Santo Uffricio Padre Pio di immoralità e che Monsignor Farina è stato incaricato come visitatore apostolico per accertare questa accusa e Monsignor Farina che si è incontrato allora con Padre Pio e non sappiamo che cose sono dette nella relazione che ha fatto a Santo Uffricio dice assolutamente Padre Pio è un uomo Pio non c'è da dubitare di Padre Pio questo è il primo poi naturalmente qui siamo nel 1928 quindi gli anni in cui Padre Pio è segregato insomma che fino agli anni 33 è stato segregato ma dopo poi Monsignor Farina è venuto molte volte dalla documentazione che anche qui riporto in appendice sul libro risulta che lui veniva spesso da Padre Pio siamo negli anni 50 negli anni in cui si costruiva casa sollievo diciamo io ho ricavato queste notizie dalla biografia di Monsignor Farina scritta da un suo discepolo Monsignor Mario Sanchez pure lui vescovo il quale dice che si ricava sempre da Monsignor Farina e aveva dei colloqui e lì ho pubblicato anche delle fotografie diciamo in cui non c'è Monsignor Farina insieme con Padre Pio ma c'è Monsignor Farina col dottor Sanguinetti con fra Daniele con fra Raffaele e con un bel gruppo insomma e quindi veniva veniva sempre e io proprio sento il bisogno poiché ho curato questa pubblicazione di ringraziare anche l'editrice qui di Padre Pio che è come dire come se fosse un grazio dei figli di San Francesco verso quello che ha fatto Monsignor Farina per Padre Pio che poi ha fatto quello che era la verità certo ma è stato uno strumento della provvidenza per per far diciamo risplendere la verità perché la verità viene sempre a galla quando ci sono si passa per momenti oscuri a volte il Signore una cosa che dice sempre Monsignor Farina dice queste cose Dio le ha permesse per il mio meglio per il mio meglio ecco diceva così sempre lo diceva sempre molto bella diceva per esempio che quando c'era una cattiva notizia ma non di prego tutto il Signore trasformerà in bene che cita San Paolo tutto concorrerà al bene di quelli che amano Dio io la ringrazio Don Luigi per essere stato qui con noi per averci parlato di questa grande fatica letteraria appunto lei ha curato il diario spirituale di Monsignor Fortunato Maria Farina edizioni Padre Pio da Pietrelcina e grazie davvero per appunto anche queste parole chiave queste riflessioni che ci ha donato quest'oggi in questa puntata speciale di Tra le Viche sono io che ringrazio ringrazio lei il direttore che mi ha concesso questo e tutto per il bene perché meglio sia glorificato il Signore e grazie grazie a Don Luigi Nardella per essere stato con noi oggi grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.